segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te arrivassero i fascisti e tutti tutti vestiti di nero sono arrivati a torino come li chiami come si chiama i luiziotti che si rompono e dicono questi ci hanno rotto il cazzo e meno e meno noi ragazzini si chiamano fascisti è ossessionato risponde alla christian raimo posa il vino con sta storia del fascismo siete ossessionati con gli altri del pd che presentano una proposta di legge sull'antifascismo e se posso finire posso sentire e posso sentire finire un ragionamento da camilla conti piasco che sei ossessionato va bene conti camilla